Ragazzi, sono d'accordo con il PD, bisogna chiudere tutte le organizzazioni di matrice neofascista. Ma insieme a quelle però bisogna aggiungere nella Costituzione il divieto di creare associazioni di matrice neocomunista. Perché, cari miei compagni, bisognerebbe chiudere anche tutti i centri sociali. Ma come mai queste parole non le sentiamo mai dalla bocca della segretaria Schlein? No, no, prego. Ma ci mancherebbe, direttore. Ma davvero io sono stupefatto da questo dibattito. Cioè sarebbe come chiedere alla sinistra tutte le volte che c'è un corteo di centri sociali e che mette, a differenza di questo, a ferro e fuoco una città, una presa di distanza da tutti quelli lì. Cioè sarebbe come se io dovessi tutte le volte dire a Maiorino, siccome tu frequenti ogni tanto qualche centro sociale, quindi adesso tutte le volte che c'è una manifestazione, uno sconto a Torino, uno sconto a Milano, uno sconto a Roma, chiamiamo Maiorino o chiunque altro, cito Maiorino perché qui potremmo citare qualcun altro, dovete dire che prendete le distanze, che quelli sono comunisti, che voi non avete nulla da spartire col comunismo. E tutte le volte che qualcuno invece invita con slogan non proprio così molto affettuosi a magari spaccare la testa a qualcun altro, dovremmo chiedere a chi sta all'Hash Line piuttosto che a qualcun altro di prendere le distanze. Vi rendete conto che è un dibattito assurdo? Perché se c'è un reato ci pensa la magistratura. Non è che possiamo passare tempo. Io dal Parlamento, scusate, vorrei che qualcuno mi spiegasse, ed è la ragione, prima Caroselli ce lo domandava, ma noi che stiamo usando questa storia per non parlare d'altro, ma vi rendete conto che sta per chiudere, anzi per fallire, la più grande azienda siderurgica del Paese, che grazie a una gestione incredibile di tutti i governi, in particolare di quelli che si sono succeduti negli ultimi anni, vale a dire quasi tutti di sinistra, nove anni di sinistra, sta per fallire l'Ilva e nessuno sa dire niente, nessuno sta dicendo. Prima di continuare con il video però vi chiedo un favore di iscrivervi al canale, è gratis, ogni giorno troverete nuovi video, cosa aspettate? Che abbiamo buttato a mare un pezzo di pil del Paese e nessuno ricostruisce le vicende, ma vi ricordate che c'era un ministro di un governo che sosteneva, governo era quello giallorosso, che sosteneva che l'Ilva potesse essere sostituita con l'allevamento delle cozze? Ve lo ricordate? E questa è la realtà, lì ci sarebbe da fare un bel dibattito, un bel processo, altro che discutere di 200 imbecilli che vanno lì a fare camerata presente. Quella è la realtà, ma di questa realtà non ne vogliono parlare, di questa realtà non discutiamo, sapete quanto costerà e quanto è già costata agli italiani la vicenda dell'Ilva grazie ai governi Conte e anche a quelli che si sono succeduti? Tra i 7 e gli 8 miliardi, da Monti a Conte 7 o 8 miliardi, sapete quanti soldi si potevano mettere nelle tasche degli italiani? Fate voi i conti e saprete a chi dare la colpa, altro che discutere di 200 persone. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.